Questa è una vicenda di estrema gravità. Per solo fatto fortuito non abbiamo contato i morti, nel senso che l'esplosione è stata importante al centro della città, in un luogo assolutamente frequentato, e in cui sicuramente l'esecutore materiale ha avuto molto fortuna a limitare i danni. Quindi un fatto estremamente grave. Da subito erano emerse delle cose che non convincevano, anche se le prime indagini, avviate nell'immediatezza, si sono rivolte su tutto lo spettro investigativo. Un dato fondamentale è che chi ha eseguito l'attentato aveva le chiavi, e l'unica persona che aveva la disponibilità delle chiavi della sala cinesca era appunto il proprietario. Su questo si è snodata una serie di attività di indagine molto impegnativa. Noi siamo in condizione di ricostruire in termini di assoluta precisione ciò che è avvenuto, nel senso che qualcuno è entrato nel locale, ha aperto la sala cinesca automatica con le chiavi, ha cosparso di benzina il locale stesso, successivamente è uscito, non è successo niente, è rientrato perché probabilmente l'innesco non aveva funzionato, avrà azionato l'innesco perché dopo pochi istanti vi è l'esplosione che catapulta a distanza di 15 metri l'esecutore materiale, il quale vediamo dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza è correre con il giubbino infiammato. Abbiamo repertato il giubbino, abbiamo fatto tutta una serie di attività per cui penso che ottimisticamente in tempi brevi, quando le indagini tecniche sui reperti verranno conclusi, noi avremo il profilo anche dell'esecutore materiale.